Dobbiamo combattere, pacificamente ma combattere, per l'idea che la libertà non ha presso, che la pace non ha presso, che la giustizia sociale non ha presso. Quella parola che peraltro tiene insieme culture politiche, quella socialista, quella liberal-democratica, quella cattolico-democratica, che se una prevale troppo sull'altra, a proposito di fare la sinistra, io la sinistra la so fare nei comportamenti, negli atti, non nelle enunciazioni delle parole. Anzi, vi dirò di più, cancelliamo alcune parole che ci hanno resi antipatici, guardando troppo spesso gli altri dall'alto in basso, con la puzza solta al naso, l'idea che avevamo sempre ragione noi, no la ragione te la danno i cittadini nelle urne magari, cancelliamo le due parole superiorità morale, non siamo superiori moralmente a nessuno, dobbiamo conquistarci ogni giorno con umiltà, invece il fatto di risultare più capaci, più affidabili, migliori nel governo quotidiano e poi magari quello del paese. E certamente però, ritrovando la questione morale, perché noi vogliamo che nel PD si impegni solo chi mette l'onestà, la sobrietà e l'incidermità dei comportamenti come precondizione per impegnarsi o candidarsi, fannulloni, furfanti, se ne stiano la lontana dal PD. Affermarlo ogni giorno, la lotta per la legalità. Lo dico perché mi è toccato anche sentire tal Del Mastro, insieme a Donzelli, accusare i nostri parlamentari, accusare la comunità del PD di essere persino conciliante o cedevole verso la lotta al terrorismo o alle mafie. Io sono stato, nel mio tour che avete visto, a rendere omaggio a uomini che venivano come me dalla storia del PC, Guido Rossa, Pio La Torre, gente che ha patito e ha dato la vita per denunciare i terroristi nella fabbrica dove lavoravano, per combattere le mafie. E se vuole Del Mastro e Donzelli, vengano a Bologna e li porto alla stazione a vedere la lapide del 2 agosto, a vedere quella strage fascista. Venite a vedere il terrorismo come ha colpito dalle nostre parti.